musica 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 una volta preso nel culo Daniel è abituato via oh mi sa che c'è la mucca muuuu si no vuole dire c'è la musichetta mi sento anche che hai fatto più avviso lui si va no ehm io andrei dritto via oh un pene vabbè prendiamo prima di qua la la oh c'è la zona che si fa bene hello wow ti ho detto che devi andare dritto ehm hello eeeh nooo nooo no 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 hai capito male corri corri via 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 sono ancora dietro mi sa di si oh no oh no devi portare affanculo ah ah ti avevo detto di non andare di là te non ci devo andare dove cazzo siamo? no all'inizio no no ok d'ora in poi stai femmine il pisello dritto per dritto d'ora in poi quando negli oro ormai guardassi dietro uff ti avevo attaccato al culo ciao ciao qui che è un martello martellati le balle a questo punto uff 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 fa skate non posso credere cosa sono diventato una delle ragazze scappò e io la inseguì fino a sopra la scovai e la scovai e e gliela butta nei culo uff 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 che è quella roba lì sopra occhiappa un raccord sicco di catarrame uff uff intanto qui che dici uff uff lights uff uf u u u u u u u u uh u Insomma, un secco di legno riempiuto di catrame appiccicoso. Ah! Oh! Plic! Come no? Che è? Devi bloccare? Metticela testa! La testa di Agrippa! Agrippa, pensaci te! No. Che devi fare? Dovrai bloccare questi, penso. Non è che il catrame ti serve per una sfera? Oh? Sa di sì, eh? No, dopo devi farlo. Guardate, segui i miei consigli, torna indietro. Vai. Aspetta, vedete che si può fare qualcosa qua? No, è già pieno. Vabbè. Ascolta Luca. Ora, sinistro! Nebbiolina, 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 pisilina. Sinistro! Ma di là ci fa andare? Ah, qui ci vuole un saltino. Uè! Ma te non godo quando arriva il peccalatore sulla testa. No, mi vengono i bibiditi sui. Entra! Ah! Ora, sinistro! Butta il catrame. Butta il catrame. A me manca ancora un pezzo. Che cazzo? Che cazzo? Che paolo? Ah! Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Oh, ci fottano la sfera. Oh, ci fottano la sfera. Buttiti nel mezzo. Aspetta Jay. Da solo la sfera non rimuove la parriera. Si deve fare qualcosa con il macchinetto. Ma se vengo qui? Oh! Sono attraversato da energia. Vabbè. Ora devi andare. A me manca. Cioè, tipo, di là mi ricorda che ci si poteva andare. Sì, prima. Perché ci sono andato io. Eh? Ci ero andato io. Perché non so perché il gioco non mi ha fatto tutta questa cosa della prigione lì. O proprio fa' come negli altri giochi che basta che cammini e voli. E volo di sotto? Volerei di sotto ma almeno ci provo. No, volo di sotto. Non sono dio. Ah, vabbè. Che cazzo? La merda. No, è uno scrafaggetto. Ah, che bello. Abbiamo un amico. Vai, ahah. Di qua. Allora, eh, devo bloccar quello. Mettici il mattello, no? No. Allora. Prendeci. Oh, ma porca puttana. Schiappa. No. Intanto lì se lo sta. Ehm... La porca. La porca. Questa. Non si fa raccogliere. Che cazzo ci si butta. Questa non si può prendere. La testa del grip non si fa nulla. Forse c'è qualcosa qua sopra. Eh, vedi? C'è la roba attaccata lì. Dici? Dici. Penso di sì. Se tanto... Non si può prendere la gamba del coso. Ma adesso ali. Non si può? No, non si può accappare nulla. Quindi? La scatola. La sega. La sega? Si rompe. Aspetta. No, non si può prendere. Quella a fare, quella a fare. Aspetta. C'è un legnetto qui accanto al tavolo. No, nulla, nulla. Scherzavo. Qui sotto? Nulla. Qui c'è una tavoletta. Non si può prendere. Un sasso forse. Vediamo. Magari è troppo grosso. Ora vedi, è troppo grande. Ci vuole il pistole di Torino. Proviamo. Urca. Oh. Che è il padrino? Che cazzo è? Eh beh, che... Ah, lo sa cos'altro. Lo ha bloccato. E lo rifrendo. Vabbè. Plip, 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 plip. Di testa. Eh, chi è quello? Chiudi la porta. Ciao. Amico mio, non te voglio, non voglio niente. No, voglio. E ora? E ora? E ora? Eh, merda. Vai qui. Bravo. Però ti può ammazzare da di qua. No. Intanto che si può fare? Vediamo. Contiamo i quadratini. Uno, due, tre, quattro. Daniel ce l'ha a un telefono. Non lo so. Ma vai, messaggio con la febria. No, e vedi, l'ho lasciato lì. No. Ma... Allora? Sai bello ora vai lì ed è lì davanti. Shhh. No, non c'è. Quindi? Musichetta c'è ancora. Eh... O ti fai ammazzare. Oh, aspetti. O ci facciamo cagare addosso. Tu, tu, tu. Giancarlo, sei tu? Giancarlo. Giancarlo è andato via. Giuseppe. E' là, è là. Ma è lassù. E' sparito. Ah no, è là. Via, mi sa che devi scappare ora. Mi sa che devi andare diretto in quella porta. No, se ce l'ho lì. E' sparito. E' sparito. Speriamo. Non fare il backflip. Il che? Scappa, non te ne fregare di tutto e di nulla. Scappa. Rifugio sacro. Quindi? Alexander, il video. Aspetta, cosa? Sono le tre, quattro e quattro? Vabbè. Vabbè. Normale che sia così. Non lo so. Porca puttana. Cazzo, è un aereo. È là l'Italia. Che? Quando è così vuol dire che c'è qualcuno. che c'è il superman che tronti è quello a fare di prima. Ah no, è la merda. Eh, ma ti ammazza se ti becca. Dici? Ehm, di qua. Ah. Che figata. Perché ci fa vedere per forza la... il simbolo dei templari? Non è giusto, non devo essere incolpato. Sì, vabbè. Ti dirò per ciò che ci hai fatto. Ma qui chi è? Dania, ah. Oh, come incazzato? Senti là. Spacco culo. Tanto tanto di morire. Sono trappodevole per continuare. Tanto. Non mi sembra che non mi guardo, ma non mi sceglie. Oh, ho, ho. Non mi vedo, ma i miei occhi sono sbattati in tiglie. Sono? Allora, ecco lo so. Clicca, clicca. Eh. Che? Vai. L'ho preso nel culo. E ora? Ah, c'è il pisello moscio. Induriamolo, vai Quindi? Oh, si, droga Oh, troppa droga Ancora, si Oh, si Ma Ne voglio ancora Ma che cazzo vuol dire? Ah, andate a puttare la sanità Eh, troppa droga Mi sa che Un po' di luce Ancora, ancora Ah, basta Ma è tutto rosso per Non lo so Perché ora siamo ricoglioni Accidenta a te che fai la droga Eh, vai, dai Fra vodka e droga, lui Andiamo di qua Ancora Sì Ancora droga Oh, sì Sì, signore Droga Vabbè, ma che cosa mi rappresenta? Non lo so Ah Forse apri la porta Lì nel mezzo Guardate Non siamo avuti lì sopra? Che cazzo? Droga A me No Che è successo? Vai un po' Gira a sinistra Ah, forse va fatta anche lì La porta è aperta Quell'altra No, va fatta anche lì lì Allora No, va fatta anche lì 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 Eh, te la vai Droga Sì Droga, droga No, qua no Ora si è aperta Il potere della droga È in Daniel Oh Sei matto Questa parte di gameplay L'abbiamo fatta soprattutto strisciando Adesso Vai Ecco qua C'era il libro della droga No Questo libro di Naruto Dove c'è lo shuriken Ah Che ha detto lo pare Non ho capito solo Allora Eh, la selva è oscura Una porta a capare Che cosa c'è disegnato? Un aquila E due leone Sì Grifondoro Camera della sfera Se non fosse stato per Alexander Sarebbe ancora innocente Capace di morire così È vero? Così 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 Perché gli va? Voglio morire Voglio morire così Stai divertendo con il laser del mouse? Sì Ma lo sai che ti sta divertendo male? No Ma io giusto che stavo le ho fatto No, ma di male Si saccoffa quando si muove Ma che cazzo hai detto? Saccoffa Saccoffa Perché fa Si sdrae E fa Dopo il caricamento di 20 secondi Sono ancora di afro Misati si Oh no Mi cacchucana Devi portare Affanculo Saccoffa Saccoffa Saccoffa